Un comunicato nella tarda serata di ieri condito dalle solite frasi di circostanza, Francesco Farina non sarà più l'allenatore della Fidelis Andrea. La notizia non arriva proprio come un fulminaccio al sereno, il tecnico campano era sulla graticola da diverse settimane. Una crisi di gioco e risultati amplificata da un ottobre nero che ha portato la Fidelis a raggranellare una sola vittoria, quella contro il Gravina, tre pareggi e una sconfitta. Le sirene rimbombavano nell'ambiente già da tempo. I rapporti tra Farina e parte della dirigenza federiciana si sono deteriorati con il passare delle settimane e la vittoria roboante contro il Santa Maria Cilento al Degli Olivi è servita semplicemente a nascondere la polvere sotto il tappeto. Il passo falso contro il Gallipoli nell'ultimo turno di campionato ha scoperchiato definitivamente il vaso di Pandora. Con il tecnico che ha incassato l'esonero ha ringraziato la piazza con un post affidato ai social ed è andato via a pochi giorni dalla gara contro il Barletta. Uno strano scherzo del destino, del resto il 19 novembre, giorno del derby, era una data già cerchiata in rosso su diversi calendari, non solo su quello dell'ormai ex allenatore della Fidelisandria. Diverse in ogni caso le zone d'ombra sul suo esonero. Farina infatti ha accettato la sfida nonostante una serie di punti interrogativi. Il momento di flessione, dopo aver raccolto 10 punti nelle prime quattro uscite, è stato quasi fisiologico, perché la squadra è partita senza una base di giocatori, vista la retrocessione in serie D della compagine biancazzurra e soprattutto in ritardo rispetto a tutte le altre contendenti del girone H. Ora toccherà a Pasquale De Candia raccogliere il testimone. Si ricompone dunque il duo con il presidente Giuseppe Di Benedetto che nella scorsa stagione ha trascinato il Manfredonia fuori dalle sabbie mobili dell'eccellenza. Oltre al derby contro il Barletta intanto la Fidelisandria mercoledì sarà di scena al Capozza contro il Casarano per i sedicesimi di Coppa Italia, non proprio una Viosoft per De Candia.